Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È da un po' che non registro video perché sono stato malato, ho avuto il covid e quindi sono rimasto recluso in casa. In ogni caso siamo tornati, torniamo a bomba anche perché in questi giorni che non ho registrato, non ho portato contenuti, comunque mi sono portato avanti col lavoro andando a estrarare tante nuove collaborazioni come quella di cui parleremo oggi, ovvero creata con Gamsgu, un'azienda che realizza un servizio molto interessante per andare a risparmiare qualcosina su tutti quelli che sono i migliaia di abbonamenti che troviamo online da poter sottoscrivere. Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come al solito ti chiedo un piccolo supporto. Iscriviti cliccando il tastino rosso, attiva la campanellina, lascia un bel like e se ti va seguimi su Instagram. Trovi tutti i link qui sotto in descrizione. Ma parliamo di Gamsgu. Effettivamente è un sito internet che ci permette appunto di andare a sottoscrivere degli abbonamenti andando a dilazionare quelli che sono i pagamenti con altre persone effettivamente. Tranquilli, non ci sono particolari problemi sotto questo punto di vista in quanto la cosa è totalmente legale e quindi non avete problemi né pensieri per quanto riguarda appunto queste questioni. Ma andiamo a vedere in sostanza di cosa si tratta. Una volta iscritti alla piattaforma abbiamo tutta una serie di abbonamenti possibili. Tranquilli perché alla fine del video vi lascerò un piccolo codice sconto in modo tale da poter usufruire del servizio con uno sconto aggiuntivo. Ma come funziona in sostanza? L'azienda acquista un servizio Family in modo tale, facciamo un esempio di Netflix, acquista il servizio Family e poi divide l'abbonamento per 5 persone effettivamente. A differenza di andare ad acquistare un abbonamento singolo diretto sulla piattaforma e che si va a risparmiare un bel po' di soldi. Ed è proprio questo la forza di questa tipologia di abbonamento. Far sì che queste persone acquistino un servizio andando a pagare meno in modo tale che magari con un semplice abbonamento di Netflix pagato sulla piattaforma ufficiale possiamo pagarci effettivamente due abbonamenti contemporaneamente. Vi faccio un paio di esempi di prezzi. Ad esempio un Netflix che versione base arriva a costare questa cifra, beh grazie a Gamsgu potremmo andare a risparmiare un bel po' di soldi pagando questa cifra. Per quanto riguarda i pagamenti tranquilli perché è tutto ordinato in maniera eccellente. È effettuato un pagamento con un servizio SSL che ci garantisce una certa protezione e ci sono veramente tanti metodi di pagamento ufficiali che appunto vanno a garantirci ancora un'ulteriore garanzia. Ovviamente non può mancare un servizio di assistenza per quelle che sono le nostre incertezze e quindi Gamsgu ci garantisce un'assistenza 24-7 per tutti i giorni della settimana quindi. Tranquilli perché comunque il sistema ci garantisce un servizio di rimborso. Entro però i 20 giorni dall'effettivo acquisto. Vi raccomando se volete maggiori informazioni riguardo al servizio stesso e a tutti quelli che sono gli abbonamenti disponibili sul sito vi lascio il link qui sotto in descrizione e tranquilli perché sono in arrivo tanti altri siti tanti altri abbonamenti in modo tale da poter andare a risparmiare qualcosina anche su magari un abbonamento che per il momento non è l'elenco. Ovviamente tra tutti quelli che sono gli abbonamenti disponibili quello più ambito è Netflix dato che è una delle piattaforme più grandi per quanto riguarda lo streaming di film e di serie tv ma in ogni caso ci sono tanti altri abbonamenti veramente tanto tanto interessanti come ad esempio Disney Plus o addirittura Prime Video. Bene ragazzi vi raccomando se siete interessati trovate tutti i link qui sotto in descrizione e soprattutto trovate qui sotto in descrizione la possibilità di iscrivervi tramite il mio link affiliato in modo tale da risparmiare qualcosina e far guadagnare una piccola percentuale senza aggiungere nulla sul prezzo a me in modo tale da realizzare più contenuti del genere. Io vi ringrazio per aver visto questo video se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina noi però ci vediamo molto presto sempre qui sul mio canale YouTube. Grazie. 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 Grazie.